Dalla Germania dal lago di Costanza, un paese piccolo si chiama Überlingen. 52 ragazzi con i loro accompagnatori, un'ottantina di persone con cucina al seguito, l'organizzazione è teutonica, arrivano in bicicletta dal lago di Costanza e attraverso Lecco, Cremona, Reggio Emilia, Rioveggio, Montecatini raggiungono in 11 giorni Lauro, antico borgo in provincia di Avellino, meta di un turismo alternativo. I tedeschi sono costantemente presenti da febbraio nel nostro campeggio per tutta la settimana. Eh sì, perché l'invasione dei giovani tedeschi è solo uno dei segnali che l'area di sosta e campeggio di Cremona è sempre più gettonata. Giuse Brignoli della cooperativa Nazareth che gestisce l'area per conto del comune. Quest'anno abbiamo avuto un'impennata di richieste, non solo sul fine settimana ma proprio anche nell'infrasettimanale, per cui dal lunedì al giovedì abbiamo non meno di 20 mezzi tra camper, moto, tende, autocontenda, roulotte e anche tantissimi cicloturisti che iniziano a girare per il periodo estivo. Ecco, una caratteristica appunto che accoglie un po' tutti, tutti i mezzi. Sì, diciamo che abbiamo fatto questa scelta sin dall'inizio di elevare l'area sosta camper a camping una stella proprio per permettere anche a chi non viene con il camper di sostare a Cremona. Si scopre che Cremona è su una via di passaggio per i grandi tour europei. Arriverà un rally dall'Olanda, è arrivato un rally che poi andava in Marocco e che tornava e che ci ha chiesto anche il rimessaggio di alcuni mezzi. Dobbiamo capire quale attrazione ha Cremona anche rispetto alle vie del viaggio e non del viaggio convenzionale ma quello fatto con le bici, con le macchine strane, con le motociclette perché siamo sicuri che anche questa è una cosa che può attrarre e che può far diventare il campeggio di Cremona una risorsa, un'opportunità. Ma qualche anno fa erano molte le critiche sulla gestione e sull'amministrazione comunale? Un po' come tutte le cose che iniziano bisogna crederci e bisogna costruire le cose piano piano. Avete visto adesso c'è l'ombra che prima sembrava non ci fosse perché le piante per crescere hanno bisogno di tempo e poi soprattutto bisogna starci dentro nelle cose, crederci e soprattutto prendere le cose che arrivano e costruire su quello che arriva. Abbiamo visto che una delle caratteristiche di quest'anno è la gente che torna, quando la gente sta bene torna e quindi su questa cosa dobbiamo continuare a puntare.